Ben trovati a questa nuova puntata di Una finestra su il nostro nuovo format che viene realizzato tra Perugia e Roma e che va in onda in contemporanea sia in Umbria che nel Lazio, nel Lazio sul canale 87 e del digitale terrestre in Umbria sul canale 13, un format che ci permette ogni settimana di affrontare argomenti di diverso tipo con personaggi provenienti da vari settori, quello della politica, dello sport, della cultura e non solo, quest'oggi abbiamo come ospite Donatella Iorio che è la Presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale. Ben trovata. Ben trovati a voi, grazie per l'invito. Presidente, potremmo intanto spiegare ai nostri telespettatori quali sono le attività che svolge nello specifico la Commissione Urbanistica della Campidoglio? Allora, la Commissione Urbanistica ha funzioni di indirizzo e di controllo su tutte le attività svolte dal Dipartimento Pianificazione e Attuazione Urbanistica. Sono quindi delle attività molto ampie e complesse che vanno dalla pianificazione del territorio all'attuazione dei singoli strumenti attuativi fino allo svolgimento di pratiche che tutti quanti noi conosciamo, tra cui per esempio, ne cito una, i condoni. È un Dipartimento molto vasto che oggi segue anche le attività di quello che una volta era il Dipartimento Periferie. Quindi noi facciamo delle sedute di commissione circa due volte alla settimana e nelle quali io convoco su degli ordini del giorno su dei temi che sono più sentiti sia dai cittadini ma anche diciamo politicamente che noi sentiamo di dover affrontare in commissione e magari poi portarli anche in assemblea capitolina. Allora, ormai sono tre anni e mezzo che è a capo di questa commissione. Che tipo di situazione trovò al momento del suo insediamento? Era l'estate del 2016. Allora, la situazione era una situazione molto complessa perché come ridicevo prima le attività sono variegate, sono molteplici e ci veniva da subito segnalata questa necessità di dover fare un grosso lavoro di riorganizzazione e di snellimento soprattutto sia da parte dei cittadini ma anche per esempio degli ordini professionali che sono soprattutto i tecnici, le persone che hanno più a che fare con quel Dipartimento. Questo sulla parte attuativa. Per la parte di pianificazione insomma le attività anche lì sono molteplici e il Dipartimento svolge anche attività di supporto parallele ad altri dipartimenti, mobilità, ambiente. Quindi è anche un'attività molto trasversale essendo il Dipartimento che deve pianificare la città, quasi tutto quello di cui si discute e si dibatte poi ha una ricaduta urbanistica. Chiarissimo. Quali obiettivi si prefissò al momento della nomina? Allora innanzitutto quello di riuscire a attuare il nostro programma. Noi ci siamo presentati alle elezioni appunto nel 2016 con un programma ben preciso che nel caso dell'urbanistica prevedeva innanzitutto un'attenzione particolare per le periferie. Non che il centro per noi non sia importante, assolutamente il centro di Roma sappiamo che il patrimonio che dobbiamo gestire e se ne è parlato anche ultimamente sui temi della tutela con l'approvazione del PTPR da parte della regione, ma per noi era fondamentale proprio avere uno sguardo e un'attenzione proprio sulle periferie perché sappiamo appunto quanto le periferie romane ancora oggi soffrono per la carenza di servizi e di infrastrutture. Abbiamo tanti cittadini, tanti abitanti di Roma che abitano lontani dal centro ma che hanno necessità magari di spostarsi per raggiungere luogo di lavoro tutti i giorni e quindi l'obiettivo è proprio quello di lavorare tanto su queste zone periferiche. Crede di esserci riuscita da questo punto di vista insomma a portare qualcosa di concreto nel lavoro verso le periferie? Allora da questo punto di vista noi abbiamo focalizzato l'attenzione in particolare sul tema dei piani di zona, è un tema che caratterizza molto l'urbanistica romana perché ce ne sono tantissimi, non c'è una città che ne ha tanti quanti Roma e purtroppo sono quasi tutti dislocati nelle periferie e noi questo tema lo abbiamo seguito da più angolazioni, da più punti di vista, innanzitutto ci premeva ristabilire la legalità all'interno di questi piani di zona in cui si sono verificate nel passato delle truffe nei confronti delle persone che avevano acquistato casa all'interno dei piani di zona, per questo abbiamo ritenuto opportuno anche avviare una commissione di indagine sui piani di zona, attualmente ce n'è una preseduta dal consigliere Lombardi e da Roberta Lombardi in regione, quindi su questo sì abbiamo fatto tanta strada, abbiamo fatto anche delle cose che le amministrazioni precedenti non avevano mai fatto, abbiamo chiesto di costituire all'interno del dipartimento un ufficio speciale che andasse a rivedere tutte le convenzioni dei piani di zona e verificare se quello che era contenuto nelle convenzioni fosse stato effettivamente messo in atto, per cui abbiamo portato avanti questi temi e siamo riusciti a votare in aula proprio delle decadenze di convenzione, la prima fu sul piano di zona Tor Vergata, poi c'è stato Castelverde, Spinaceto 2, adesso prima dell'estate è il piano di zona Collefiorito, quindi questo per noi è già far capire che quelli sono immobili, realizzati con dei finanziamenti pubblici e che pertanto devono essere messi sul mercato proprio per dare un aiuto alle persone che non potevano acquistare casa al libero mercato a dei prezzi massimi, per noi era fondamentale, quindi penso che questa sia un'operazione unica mai messa in campo prima, parallelamente però ci siamo occupati anche della realizzazione delle opere dei piani di zona e su questo devo dire che c'è ancora molto da fare, perché ci sono dei piani di zona in cui non ci sono ancora le strade, le fogne, l'illuminazione e noi vorremmo veramente dare una spinta da questo punto di vista per far sì che quei cittadini che vivono in quei quartieri vivano in un contesto diciamo normale, quello che sarebbe la normalità, non voglio neanche dire godibile, quello di avere appunto delle strade, dei parcheggi, le fogne e su questo siamo molto impegnati. Il tema dei piani di zona poi si è portato dietro tutta la tematica delle affrancazioni e di cui si è parlato tantissimo negli ultimi tempi, anche su quel tema la Commissione non ha fatto tanto lavoro, abbiamo fatto una delibera di indirizzo che poi ha portato gli uffici a sottoporci una delibera attuativa che è la 116 che abbiamo poi votato l'anno scorso in aula che prevede nuovi calcoli per la trasformazione e le affrancazioni del piano di zona, magari non tutti sanno che cosa vogliono dire questi termini, però in breve... Perché se poi se ne è parlato a inizio mese, all'inizio di settembre, si è tornato a parlare di questo nodo rigato alle affrancazioni, magari se può dirci qualcosa in più? Sì, allora sostanzialmente come le dicevo prima gli immobili dei piani di zona sono vincolati ad un prezzo massimo che quindi non potrebbero essere venduti al di sopra di quel prezzo, però nel 2011 fu fatta una legge che prevedeva la possibilità per i proprietari di queste case di affrancarsi da questo prezzo massimo e quindi poter vendere questi immobili liberamente sul mercato, pagando un corrispettivo al comune. La tematica è molto sentita perché, come le dicevo prima, molti neanche sapevano che ci fosse questo vincolo sull'immobile che avevano acquistato e stesso loro avevano già acquistato ad un prezzo di mercato superiore al prezzo massimo, quindi si è ingenerata una sorta veramente di lotta tra chi aveva venduto e chi aveva acquistato, quindi è diventato per noi un vero problema sociale. E vi sono pervenute migliaia di richieste? Tantissime, oggi credo che siano più di 5 mila richieste di affrancazione e il problema è che non si riesce a dare risposta in maniera celere a queste richieste, ad evadere le istanze nei 180 giorni previsti dalle delibere. Quindi giustamente i cittadini chiedono che questo termine venga rispettato e pertanto noi abbiamo fatto la delibera che mira proprio a velocizzare queste pratiche. Però quello che arrende il tema ancora più attuale è perché poi proprio per cercare di risolvere questa situazione tra venditori e acquirenti il tema è arrivato a livello nazionale, quindi anche il Parlamento se ne è occupato, l'anno scorso è stato fatto un emendamento che ha modificato la legge di cui le parlavo prima e questo emendamento consente in sostanza di far affrancare non solo a chi ha acquistato ma a chi anche aveva venduto. Ora si è in attesa del decreto attuativo da parte del governo che dovrebbe dire secondo quale modalità i comuni devono far affrancare questi cittadini. Noi abbiamo la nostra delibera come le dicevo perché c'eravamo un po' anticipati in quei tempi, avevamo già fatto un lavoro a prescindere dal cambio della normativa, però quando uscirà questo decreto ovviamente ci dovremmo adeguare a quello che dirà il decreto. Noi su questo, il decreto quindi non è ancora pronto, non è ancora uscito, io ho avuto la possibilità come credo molti cittadini di vedere una bozza del decreto che è stata mandata ad agosto alla conferenza unificata e come comune di Roma devo dire che avendo letto questa bozza ci sono dei passaggi nel decreto che secondo noi andrebbero rivisti ed essendo il comune che ne ha più casi di tutti in Italia, io credo che il governo e il ministro comunque debba prendere in considerazione la posizione di Roma. Nel frattempo come pensate di smaltire tutte queste richieste, migliaia, abbiamo detto oltre i 5 mila richieste che sono avvate? In parte sono state già evase ma ce ne sono ancora molte che attendono, abbiamo fatto tra luglio e agosto due commissioni per dare un po' quelle che erano le novità e per dare degli aggiornamenti sulle procedure su cui gli uffici stanno lavorando, per fortuna abbiamo un nuovo dirigente che si occuperà nello specifico di questo tema e che viene dall'ATER, quindi è una persona che è anche molto competente, quindi confidiamo e già abbiamo visto nelle commissioni che l'atteggiamento è quello giusto e stanno facendo gli uffici questi accorgimenti per rendere le pratiche sempre più snelle, tra cui come avevamo chiesto in delibera la possibilità di inserire il calcolo sul sito in modo tale che il cittadino prima di presentare l'istanza abbia un'idea di massima di qual è l'importo che dovrà pagare. Quindi noi nel frattempo si va avanti con la nostra delibera e poi quando arriverà il decreto attuativo si faranno gli eventuali correttivi per adeguarsi alla legge. Sempre riguardo la questione dei piani di zona c'è il discorso delle trasformazioni, cioè la cancellazione del vincolo del cosiddetto diritto di superficie dietro il pagamento di un'altra somma. Quanto bisogna aspettare per avere 24 piani di zona per così dire trasformabili? Ok, il tema è complesso. Ad oggi sono 14 piani già in trasformazione, ma sempre nella delibera di indirizzo abbiamo detto agli uffici che noi eravamo intenzionati ad allargare il numero, ad ampliare il numero dei piani in trasformazione. Nell'ultima commissione di agosto gli uffici ci hanno portato un elenco in cui hanno rappresentato alla commissione che altri 10 piani sarebbero pronti per andare in trasformazione, ma completeranno questa fase di analisi su tutti i piani a dicembre. Potrebbero essere anche di più di 24. Dopodiché verrà preparata una delibera che dovrà essere votata dall'Aula, perché sostanzialmente questi piani di zona sono costruiti su dei terreni che erano stati espropriati dal comune. Pertanto il terreno è di proprietà del comune e chi vuole svincolarsi e diventare pieno proprietario dovrà pagare questo corrispettivo di trasformazione. Un altro aspetto importante di cui parliamo, tra l'altro la telecamera è spente e a cui so che lei tiene molto, è quello dell'housing sociale. Di cosa si tratta esattamente? Allora l'housing sociale è sostanzialmente un tipo di edilizia, un tipo appunto sì di edilizia che è sempre privata, ma anch'essa è fissata con un canone di locazione calmerato. Che cosa vuol dire? Quindi sono immobili, sono case realizzate da privati e diciamo rivolte a privati. Case nella cui compravendita il comune non interviene, è un normale contratto più che di compravendita inizialmente per i primi 15 anni di locazione tra privati. Però l'housing è fatto in modo tale che per questi 15 anni non si possa superare un canone di locazione. E questo è fatto in modo per dare la possibilità a chi non può pagare i fitti di mercato e quindi penso a famiglie in cui c'è un monoreddito, oppure a persone anziane, a studenti, a persone che magari non hanno un lavoro stabile, di poter comunque accedere ad una casa. Cosa è successo? Che negli anni passati si è realizzato housing sociale a Roma, sia con delle convenzioni urbanistiche ma anche in seguito all'applicazione della legge Piano Casa, la 21 del 2009. Quindi abbiamo dell'housing sociale realizzato su Roma e in cambio della realizzazione di housing i costruttori hanno ricevuto anche delle primialità incubature. Però, guarda caso, il Comune non ha contezza di dove sia questo housing, di dove sia ubicato, in che municipio, di quanto sia proprio l'ammontare di questo patrimonio. E noi abbiamo fatto insieme alla Commissione Patrimonio e Politiche Abitative, che era preseduta dalla Valentina Vivarelli, che da poco è diventata assessore al patrimonio alle politiche abitative, abbiamo messo in piedi questa delibera che mira innanzitutto a distribuire le competenze all'interno del Comune tra urbanistica e politiche abitative, ma soprattutto a creare un registro che possa essere messo online, per cui queste persone potranno vedere tramite il sito del Comune di Roma dove sono collocati e posizionati questi immobili e quindi accedervi. Stiamo facendo venire fuori un sommerso di immobili che possono andare a favorire una certa fascia di persone. E questo secondo me è molto importante, perché ci sono delle persone che non sono indigenti, che quindi non hanno diritto alla Casa Popolare o ad altri tipi di misure, ma che potrebbero diventarlo perché sono in una fascia economica borderline. Quindi poter avere la possibilità di usufruire di questo tipo di immobili, secondo me li aiuta ad avere anche una vita più dignitosa e magari a non cadere in situazioni ben più drammatiche. Molto interessante sicuramente questo aspetto, secondo l'altro perché poi magari molti cittadini non conoscono neanche certe dinamiche e non sanno che potrebbero avvalersi di strumenti di questo tipo per poi approfittarli. Una cosa che volevo aggiungere è che l'housing è molto diffuso per esempio nei paesi anglosassoni, ma anche in città del nord Italia, qui da noi o al sud si è sentito pochissimo parlare di housing, ma questo prevede anche una modalità diversa di abitare, quindi un concetto di abitare dove si dà molto più spazio agli ambiti di comunità. Cioè oltre all'alloggio ci sono degli spazi comuni in cui le persone che vivono possono svolgere insieme delle attività e per questo nella delibera noi abbiamo inserito oltre a dei precisi paletti per costruire le convenzioni urbanistiche anche di elaborare una convenzione sociale integrativa, proprio perché bisogna capire che questo è un modo nuovo di abitare che potrebbe veramente anche essere utile per rivitalizzare delle zone degradate, per creare comunità anche nelle periferie di cui parlavamo prima, in cui mancano gli spazi sociali, in cui mancano luoghi in cui condividere. Quindi anche immaginare un modo di abitare nuovo potrebbe dare alle persone la possibilità anche di fare comunità, di fare rete, cosa che un po' manca nelle periferie dove ci sono dei condomini. Se un altro si è persa credo rispetto alle cose passate. Quindi noi confidiamo molto in questa novità. Allora, distretta attualità è anche il nodo che riguarda l'emergenza abitativa sempre nella Capitale. Di poche settimane fa la pubblicazione di un avviso pubblico finalizzato alla redazione di un elenco di immobili affittati grazie al contributo economico mensile di sostegno all'emergenza abitativa. Che cosa è opportuno sottolineare riguardo a questo aspetto? Anche in questo caso l'aiuto che noi vogliamo dare è proprio alle persone che sono in difficoltà e non riescono a trovare facilmente una casa a libero mercato. Che cosa succede? Lo spiego molto semplicemente. C'è stata una delibera di giunta, la 169, che ha aperto un bando per cui chiunque, sia enti pubblici ma privati, possono indicare al comune di avere delle case sfitte. Le mettono a disposizione in cambio del pagamento di una somma, che sono massimo 561 euro al mese, che il comune darà direttamente a loro, a patto che loro stipulino un contratto di affitto con queste persone, che non superi questa cifra. Quindi il contributo non viene dato direttamente alla persona, alla famiglia, ma chi mette questa casa a disposizione. E la misura avrà una durata di almeno 4 anni, che è la base di un contratto. Era quello che volevo chiederle. Quindi sono confermati 4 anni di sostegno da parte dell'amministrazione. Esatto. Quindi alla base ci deve essere comunque un contratto registrato e trascritto, e poi sarà il comune direttamente a versare questa quota dell'affitto sull'Iban del proprietario, dell'ente che mette a disposizione l'immobile. Questo va anche contro un altro fenomeno molto diffuso a Roma, che è l'invenduto, lo sfitto. Cioè abbiamo tantissime case realizzate sul territorio che poi di fatto sono e restano inutilizzate. Quindi vuole essere da una parte un aiuto a chi è in difficoltà, e dall'altra anche una leva, un incentivo a chi ha tutto questo patrimonio immobiliare sfitto e non utilizzato, a metterlo a disposizione della comunità. Cambiamo argomento. Parliamo del progetto Reinventiamo Roma, che è molto a cuore non solo dell'assessorato all'urbanistica, quindi della Commissione, ma anche sicuramente di tutta l'aggiunta Raggi. Nello specifico ci sono stati un paio di appuntamenti, un progetto che magari mi correga, se sbaglio, non riguarda solo una zona, cioè riguarda diverse zone di Roma. Nel mese di settembre ci sono stati un paio di appuntamenti di quanto riguarda San Lorenzo, uno tra l'altro anche abbastanza recente, per discutere del progetto di riqualificazione degli spazi che si trovano in Via dei Lucani. Che cosa può dirci riguardo il progetto che riguarda San Lorenzo? Allora, sì, come diceva lei, sicuramente il progetto di San Lorenzo rientra in una tipologia più ampia che noi abbiamo chiamato Reinventiamo, perché è una tipologia diversa di intervento sulla città che si fonda sulla rigenerazione urbana, quindi non sulle nuove costruzioni, ma sul cercare proprio di rivitalizzare e di recuperare delle aree degradate della città che hanno anche dei problemi sociali. Non a caso, uno dei temi che è rientrato in Reinventiamo è la zona di San Lorenzo, di Via dei Lucani, dove sappiamo, ci ricordiamo tutti gli episodi. Portanto, c'è stata l'ispirazione al decesso di Desiree Mariettini che è avvenuto lì, purtroppo. Quindi ci sembrava anche giusto che il progetto prendesse l'avvio da quel territorio che era stato colpito da questo evento così drammatico. Il progetto in generale comprende immobili di vario tipo, in alcuni casi anche singoli immobili di proprietà del comune. In questo caso invece si tratta di un ambito più ampio, dove la proprietà è solo in minima parte del comune, ma ci sono tanti proprietari privati, quindi la proprietà è molto frammentaria. La situazione è anche particolare perché ci sono dei proprietari che sono andati in fallimento. E quindi il comune si fa parte attiva per veicolare delle proposte per il recupero di quella zona. Quindi i due incontri che ci sono stati erano finalizzati, uno a spiegare questo bando a chi poteva essere interessato a presentare le proposte e il secondo incontro a cui ha partecipato anche la sindaca a San Lorenzo è stato invece un incontro con i cittadini, con i comitati che vivono quella zona e quindi saranno sicuramente messi a parte e coinvolti in questo percorso. Perché non ce lo possiamo nascondere, c'è bisogno della parte privata che faccia un investimento, ma sicuramente questo investimento e il loro profitto che poi giustamente si aspettano da questo tipo di investimento deve essere controbilanciato dall'interesse pubblico. Quindi la parte del coinvolgimento dei cittadini sarà molto importante. Infatti come è stato spiegato a coloro che saranno i proponenti dovranno costituire dei team, dei team di architetti, di avvocati che dovranno avanzare le loro proposte e i privati potranno sposare una o più di queste proposte. Quella che sembrerà alla cittadinanza, al territorio quella migliore verrà scelta. Se ce ne sarà più di una, sarà l'amministrazione a fare una sintesi tra diverse proposte. Qualora non dovessero arrivare, noi non ci auguriamo che vada così ovviamente, il Comune come piano B ha anche la possibilità di espropriare per interesse pubblico e quindi saremo noi parte attiva, nel senso che dovremmo trovare anche i soldi, i finanziamenti per fare questo tipo di intervento. Quest'idea di portare i proponenti a costituire dei team, da cosa nasce e quali risvolti positivi potrebbe portare? Secondo me dovendo agire su un territorio, su una porzione di città, non lo possono fare solo gli architetti o solo gli ingegneri tecnici, ma ormai la progettazione urbana ha dei caratteri sociali, quindi avere all'interno dei psicologi ma anche degli avvocati che possano valutare quali potrebbero essere i risvolti normativi, giuridici. Per noi è importante, nel senso che oggi anche la progettazione si fa in maniera diversa, pensare che sia solo l'architettura che magari presenta il disegno, il rendering e poi non ci sia uno studio più ampio, ci sembra una tipologia di progettazione un po' superata. Ci spostiamo da San Lorenzo nella parte nord-ovest della capitale in periferia, nello specifico a Prima Valle, perché sempre il mese di settembre, era martedì 10, se non sbaglio c'è stata lì un'assemblea pubblica per discutere del progetto di riqualificazione del mercato di Santiginio Papa a Prima Valle e lì non sono mancate delle critiche perché molti cittadini hanno trovato inutile raccogliere delle idee rispetto ad un progetto che a detta loro era già definito. Che cosa si sente di rispondere rispetto a queste critiche che sono avanzate e che considerazioni vuole fare più in generale rispetto a questa idea di riqualificazione del mercato? Allora, per quanto riguarda il mercato, io sono molto contenta che si faccia questo percorso, questa riqualificazione. È un mercato che io conosco molto bene, che ho frequentato, quindi conosco gli operatori dei banchi e noi ci siamo impegnati come amministrazioni a riqualificare proprio i mercati nei singoli quartieri perché secondo noi è comunque un luogo di, come ne dicevo prima, di vitalità, di comunità, oltre che dare una mano agli operatori che ovviamente è importante quindi dal punto di vista economico. Sant'Igino Papa, io so che il progetto è stato suddiviso in due parti il lavoro, quindi una prima parte che già è stata realizzata riguardato la messa in sicurezza degli impianti e adesso invece si sta discutendo su come organizzare gli spazi interni, quindi è stato fatto in due tranche. Nello specifico il municipio ha attivato un confronto con i cittadini, con gli operatori, ricevendo delle richieste, ma poi queste richieste in parte sono state accolte, in parte no, perché non rispettavano dei requisiti tecnici, perché comunque un mercato deve avere delle caratteristiche, i banchi devono avere delle dimensioni minime e io credo che comunque, come è stato fatto fino ad ora, perché ci sono state anche commissioni municipali, ma l'assemblea anche che c'è stata recentemente, in cui ha partecipato la sindaca, l'assessore Caffarotti, il presidente Coia, il presidente del municipio, quindi la volontà secondo me sia del municipio territoriale, ma quella del comune, è di continuare a dialogare con i cittadini per rendere il progetto che è stato realizzato il più possibile aderente alle richieste. Quindi la critica la capisco fino a un certo punto, perché le proposte poi dei cittadini non è che si possono sempre accogliere al 100%, perché vanno calate nella realtà o comunque vanno poi verificate anche da un punto di vista tecnico. Allora, siamo quasi in chiusura, però ci sono gli ultimi due aspetti che vorrei affrontare con lei. Il primo, sempre per quanto riguarda tra l'altro il 14esimo municipio, è relativo al progetto di riqualificazione che riguarda il Santa Maria della Pietà, da non intendersi, tra l'altro noi l'abbiamo già specificato nel nostro telegiornale, non come il Santa Maria della Pietà, come parco, ma come area che si trova appunto nel 14esimo municipio. So che è un tema a lei caro anche questo, quindi che cosa può dirci al riguardo? Allora, noi siamo molto contenti per quello che abbiamo fatto fino adesso sul Santa Maria della Pietà, perché finalmente si è sempre parlato di questa centralità urbana prevista dal nostro piano regolatore, ma mai nessuna amministrazione aveva concretamente fatto qualcosa che avviasse il percorso per definire un progetto unitario di tutta la centralità, che come diceva lei è molto complessa, perché c'è il parco con i padiglioni, ma c'è poi tutta l'area circostante che prevede gli istituti scolastici, prevede la parte, il parcheggio di scambio, c'è di tutto. E infatti noi siamo riusciti in primo luogo a stipulare un protocollo d'intesa tra comune, municipio, ASL, regione e città metropolitana, perché molte delle aree intorno a Santa Maria sono di città metropolitana. Sulla base di questo protocollo d'intesa, e già arrivarci non è stato semplice, perché magari le posizioni non erano proprio allineate da parte di tutte le istituzioni, però ci siamo riusciti e abbiamo coinvolto, e su questa base quindi sono iniziati dei tavoli, dei tavoli tecnici dove è stato discusso quello che per noi poteva essere la visione su questa centralità. Abbiamo messo sul piatto questa nostra visione e a luglio le abbiamo anticipate ai cittadini, per cui sono state fatte delle assemblee proprio lì in loco, nel centro anziani di fronte al Sant'Arma. Assemblea che noi abbiamo seguito anche con il nostro del giornale, erano una settimana in tutto il mese di lui. Esattamente, adesso c'è un documento conclusivo di queste assemblee, e vorrei sottolineare che non si tratta ancora del processo partecipativo che dovrà avvenire, ma è solo un modo di condivisione con la cittadinanza di quella che per noi potevano essere le varie vocazioni, perché il Santa Maria è un patrimonio straordinario che di vocazioni ne può avere tante, tantissime. Le abbiamo messe sul piatto, le abbiamo condivise con i cittadini, loro ci hanno dato le loro impressioni, hanno anche fatto dei questionarii, dei comitati, addirittura hanno fatto delle proposte molto più ampie e organiche che valuteremo. Il prossimo passaggio sarà quello di realizzare uno schema attuativo, per poi arrivare al progetto unitario, come prevede il piano regolatore. Quindi io credo che finalmente dopo tanti anni sul Santa Maria stiamo portando avanti qualcosa di concreto. Poi sicuramente come succede ci possono essere delle critiche, delle diverse vedute, ma io dico che bisogna fare, e altrimenti, io su questo forse ho citato anche coloro che hanno presentato una legge di iniziativa popolare in regione, il comitato si può fare, e quindi si può fare e noi lo stiamo facendo. Poi lo dobbiamo costruire insieme questo percorso, sicuramente con i cittadini che tanto tengono alla Santa Maria della Pietà, però che è un posto talmente unico e importante da dover essere portato veramente a livello urbano. Ultimissima domanda, perché il tempo purtroppo stringe, siamo veramente in chiusura. Una domanda che riguarda un aspetto più recente, che si è affrontato davvero di recente, ovvero la proposta della modifica del piano regolatore di Roma. Conferma che sono previste le linee guida di un massiccio programma residenziale pubblico da 40.000 case, con l'obiettivo di favorire la convivenza di etnie diverse? Allora, sì, noi abbiamo presentato questa delibera che contiene tanti punti, è veramente una delibera complicata. Firmata da lei e Pietro Calabrese. Sì, da Pietro Calabrese e diciamo che è un po' la somma del lavoro che abbiamo fatto in questi tre anni e contiene la nostra visione di città per il futuro. Quindi è una città che si sviluppa lungo le direttrici del trasporto pubblico, quindi completamente intorno alle linee ferroviarie. L'assessore anche sta lavorando tanto sull'anello ferroviario, quindi è una città impostata con una visione completamente diversa. Facendo questo discorso non possiamo dimenticare il problema dell'emergenza abitativa. Quindi per forza in una delibera di questo genere doveva entrare il tema dell'emergenza abitativa. Ovviamente questi alloggi non è che si possono realizzare dall'oggi al domani, ovviamente il Comune di Roma non ha le risorse finanziarie per poterlo fare da sola e sicuramente dovranno essere coinvolti a altri livelli istituzionali anche come finanziamenti. Insomma sarà un programma a lungo termine, ma bisogna cominciare a ragionare anche su quello. Presidente, noi siamo veramente in chiusura, la ringraziamo per essere stata nostra ospite. Grazie, grazie a lei. Donatella Iorio, ricordiamo Presidente della Commissione Urbanistica di Roma Capitale, vi ringraziamo anche a voi per l'attenzione, vi ricordiamo che questo programma realizzato, come diciamo, in apertura tra Roma e Perugia va in onda in contemporanea nel Lazio e in Umbria. Nel Lazio siamo sul canale 87, in Umbria invece sul canale 13. c'è davvero tutto, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.